ciao ragazzi siamo su pefa 15 ultimate team oggi siamo qui perché comunque iniziato a preparare lo champagne, dobbiamo festeggiare il nuovo anno lunare e stavo facendo un epic fame e solare magari se non mi sbaglio questo accade in giro si festeggia in questo periodo il nuovo anno in pratica due mesi dopo rispetto a noi dark arts e per questa questione speciale possiamo fare il pack opening speriamo che allargato non dia i numeri perché ultimamente sta dando i numeri come me e sono un po pazzo e lo sta tendendo anche allargato comunque ragazzi qui vediamo una riete no ragazzi ma mi sa che abbiamo detto una cavolata seria prima e non è il capodanno che si festeggia in giro e anno lunare non so ragazzi mi devo informare su questa cosa comunque sono 15 pacchetti in realtà erano 20 ragazzi capricorni si è dispiaciace in giro e ci voleva il caffè porta fortuna ma l'ho già preso dai cerco e chiude la porta la porta e ne ho tante di porte quindi non penso che mi serve e sinceramente tu no di nuovo camilla click ma queste delle esports secondo me con l'anno lunare sono non so ragazzi non so ragazzi vediamo di non scappare e si festeggia in pratica anno nuovo lunare non so se sia però e non so magari avremo una nuova luna ragazzi non si sa e se è sempre il gaucho ronardino cività vecchia ragazzi si trova a roma si devo andare qua è sempre suo stronzo mi fa trovare i pacchetti mastriati 15.000 saranno 250.000 crediti spessi a nulla ma dai cazzo jesus si pedro elma ottimo eh scusa si mi chiamano da fuori ragazzi berezzuschi lancerò un progetto quello di fare protesta e secondo me ce ne sono molti rudi di mia conoscenza si felipe sandana vedi come è dispiaciuto ecco qui la maglietta della norvegia mi sa che oggi non c'è trip a pegati scusami ehm è inuto lui esce sempre gli argentoni e ce ne sono due ecco quattro no tre giocatori di merda lì tolgo di mezzo aspetta scusa è qualcosa di buona esce ogni tanto bernat inoltre questo simpaticissimo amico non dire altro ragazzi altra volta mi ha fatto così e su ultimate team mi ha fatto girare la testa vediamo da quattro aspetta ammazzo come giovane eh si il nostro è primo gennaio primo gennaio eh si vabbè è primo gennaio soltanto ma non c'è problema io ne peticcio la gomba ecco ricordiamo milito due ragazzi no e ne credo questo è il giocatore che odio di più sui ingredini più vecchi penso che si dica così giusto me la credito ragazzi è poco due e poteva uscire adesso no io mi eh si 7 dai 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 è messi regalami messi è mio buono si loicare è mio bugato basta eh sinceramente basta e du san basta gioca nella Lazio adesso penso che lo sapevate vediamo se ci stanno di vise dalla nazionale no mi racco attenzione eee regalami ci resetti si è stocato eh 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 ho non palavuskine tu non cerai mai da la mia rosa poi spiega rojmo motivo Alex ti che riesco džoka nallo schattara dò nekso sì dò nekso Sì, inoltre è stato anche processato per questa cosa E che cazzo, esce Salvio Adesso, Jürgen Klisman Buono, eh Sì, possiamo metterlo nella nazionale Non come giocatore, ragazzi, come allenatore Salvio, salvio Sì, lo possiamo salvare perché mi piace come giocatore argentino Guzaguá Nascolo, per questo no, anno lunare E non so sinceramente dove sì Chi hai? Non ti vedevo dai tempi del palermo Come mai sei ricombasso? Frank Lamp Eh, sì Eh, dai, abbiamo trovato super pippo, ragazzi Finalmente un attaccante Spontamento Sì, sponda tutto Anche In classica Siccome dove si trova i mila Vabbè che noi non ci siamo messi Neanche bene E poi devo contattare le risposte per vedere Sì, perché mandano le divise delle nazionale Non concepisco questa cosa, ragazzi Penso che dico una cosa vera Sì, male mi sento Eh, vabbè Peggio mi sento No, aspetta Dobbiamo aspettare a parlare perché Abbiamo trovato Leighton Bains Ragazzi Moretti Quarandesima ultra Ed il year drug bar Anche Sam No, Sam è veramente mio amico Ok, e pacchetti bug Quanto è uno Ok, ragazzi Dopodichè termineremo il video Pac opening Sfortunatissimo Possiamo intitolarlo Ragazzi Volete una fetta di filetto? Eh sì, ecco qui Vietto Oh, pacchetti Eh, sì Eh, 4 me la credite Non sono male Zile Reyes Che ormai È all'apice della carriera No, alla fine Veramente Ah, pacchetti Due dei doppi Ok, possiamo scartare Mi sa che dovremmo tagliare qualcosa Comunque, ragazzi Se no Si va per le lunghe Se vi è piaciuto questo pac opening A me Eh, neanche per cazzo Mi è piaciuto Eh, potete lasciare un like E vi iscrivete al canale, ragazzi E non so Ci becchiamo Al prossimo pac opening Ragazzi Ciao 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 Ciao